Grazie Presidente, onorevoli colleghi e signor Ministro, io ho letto tutta la relazione sull'amministrazione della giustizia e l'ho trovata francamente imbarazzante perché viene quasi sospetto che lei non l'abbia letta o forse non abbia capito che cosa stava leggendo. Queste non sono mie parole, sono le parole che un anno fa le ha rivolto Ministro l'onorevole Alessia Morani del PD che l'ha accusata di non conoscere Beccaria dicendole che questo è il paese di Cesare Beccaria e lei purtroppo se l'è dimenticato, dicendole che con le uniche leggi che avete introdotto, cioè in particolare la prescrizione e il fine processo mai, nonostante tutti vi abbiano detto, avvocatura, magistratura, mondo accademico, fermatevi, fermatevi, riflettete, guardate bene quello che scrivete, tuttavia come dei muli siete andati avanti alla faccia dell'intento di dare vita a percorsi di riforma condivisi. Sono certo che la Morani e tutto il PD, adesso che sono al governo, abbiano cambiato idea, infatti sono andati avanti loro come dei muli, subendo la prescrizione, smettendo se stessi e smettendo tutto quello che avevano detto nelle tre votazioni precedenti e dimostrando che tra i principi dello Stato di diritto e il mantenimento delle poltrone di governo hanno scelto questi e non quelli, chiamandoli ovviamente con i nomi di responsabilità e non con il nome di paura di tornare alle elezioni. Venendo invece alla relazione di quest'anno ovviamente non si è ancora potuto leggerla dettagliatamente perché è stato depositato online e non in cartaceo ovviamente un testo di quasi mille pagine mi risulta quindi ovviamente noi a malapena avremo copia in mattinata della sintesi che lei ha illustrato oggi quindi ovviamente la discussione più approfondita si potrà e si dovrà fare nelle prossime settimane. Quindi oggi è solo l'inizio di un lavoro in un confronto molto duro e approfondito che dovremo necessariamente fare sulla giustizia perché la giustizia in Italia si trova in condizioni drammatiche di questo siamo consapevoli tutti i dati sul numero dei processi pendenti seppur lievemente diminuito rispetto a quello degli anni scorsi è ancora preoccupante 1.493 giudizi penali, 3.312.000 erotti nel settore civile, 1.000 casi all'anno di ingiusta detenzione sui quali purtroppo molto spesso nessuno poi si assume le responsabilità, la necessità di interventi strutturali approfonditi che cerchino di modificare la situazione e quindi cerchino di superare l'attuale sistema di inefficienza del nostro sistema giudiziario che non dipende ovviamente dal personale che compie ogni giorno un'impresa nel cercare di mandare avanti i propri uffici ma dipende da un deficit strutturale del sistema che ancora non è stato colmato e che secondo dati statistici costa l'Italia circa 40 miliardi di euro all'anno pari a due punti e mezzo del PIL e allora innanzitutto vedo che lei oggi ha leggermente modificato il taglio del messaggio rispetto agli anni precedenti gli anni precedenti annunciava una rivoluzione della giustizia di cui ovviamente non si è mai vista traccia in nessuna sede oggi più pacatamente ha modificato ed è passato a un invito alla ricostruzione ha annunciato riforme civili e penali che dovevano essere fatte entro il 31-12 e che invece ancora oggi non sono a disposizione delle commissioni parlamentari per essere approfondite e ha evidentemente preso atto di quello che dicevamo anche noi negli anni scorsi e cioè che nessuna riforma ha senso tantomeno se fatta sulla base di principi giuridici irragionevoli ma nessuna riforma ha senso se prima non si fanno investimenti strutturali importanti risorse concrete per fare assunzioni per rendere gli uffici in grado di poter efficientemente amministrare la giustizia quindi ci fa piacere che si sia passati dagli annunci di rivoluzioni al tentativo invece di raccogliere anche i nostri appelli a investire in modo più significativo sulla giustizia al di là dei dati che lei ha sinteticamente annunciato prima la legge di bilancio da poco votata è stata sicuramente insufficiente per quanto riguarda il settore della giustizia per cui auspichiamo che quanto lei ha annunciato si traduca in investimenti concreti più significativi e concretamente attuabili nella prossima legge di bilancio anzi a partire da ora in vista della prossima legge di bilancio senza questo ogni slogan e ogni annuncio giornalistico resterà lettera morta e non risolverà in nessun modo nessuno dei tanti problemi che attanagliano la nostra giustizia e non c'è il tempo oggi per entrare più dettagliatamente in tutti i punti che lei ha illustrato quindi ne sintetizzo alcuni un punto su cui sia il primo che il secondo governo in cui lei è stato ministro hanno finora fallito totalmente è quello del sovraffollamento carcerario che rimane a circa 60.000 detenuti oggi a circa 10.000 oltre la capienza regolamentare e ancora con un terzo detenuti stranieri che fino ad oggi non sono stati minimamente rimpatriati lei ha più volte detto che sono in corso trattative, incontri, interventi per cercare di concludere gli accordi bilaterali con alcuni paesi stranieri per poter concretamente attuare queste misure sono un po' preoccupato su questo perché se l'autorevolezza del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Esteri italiano nel convincere dei paesi stranieri a concludere accordi bilaterali è quella che abbiamo visto avere dal Presidente del Consiglio Conte nell'ultimo vertice di Berlino sulla Libia dove l'Italia è stata umiliata non solo nei contenuti ma anche nell'estetica vedendo pietosamente il Premier Conte nascosto in seconda fila mentre si umiliava a cercare il proprio posto in prima fila ecco, se l'autorevolezza dell'Italia sulla giustizia è la stessa che abbiamo sulla Libia io ho qualche dubbio che lei quest'anno riesca a concludere e ad attuare questi accordi bilaterali che consentano concretamente di rimpatriare questi circa 20.000 detenuti stranieri che oggi gravano sulle nostre carceri e costano a spanne circa 800 milioni e un miliardo di euro all'anno un altro tema su cui secondo la nostra opinione siamo in gravissimo ritardo anzi c'è quasi un'assenza del dibattito sul tema è la certezza della pena nei mesi e negli anni scorsi sono stati fatti degli interventi sul rito avete fatto degli interventi sulla prescrizione ma sono totalmente assenti dal dibattito delle misure efficaci sull'esecuzione della pena che come diceva anche più autorevolmente di me Carlo Nordio quando discutemmo sulle modifiche al rito abbreviato sono in realtà invece il cuore vero della garanzia della certezza della pena per i cittadini perché se non si modifica e non si riforma la normativa sull'esecuzione della pena tutto il resto rimane lettera morta anche su questo auspichiamo si possa intervenire più efficacemente mentre invece in questo momento abbiamo assistito al contrario e cioè simbolicamente quanto è stato fatto sulla prescrizione denota una visione dello Stato del diritto una visione della giustizia che è totalmente fuori dalla realtà è totalmente fuori dai principi giuridici del nostro Stato ed è fuori anche dagli appelli che tutti gli operatori della giustizia hanno rivolto al Parlamento e al Governo in questi mesi e allora probabilmente se avete abolito la prescrizione cercando di prolungare la durata dei processi se avete evitato le elezioni cercando disperatamente di prolungare la durata del Governo io aspiro che entrambe queste cose quanto prima trovino una soluzione si possa abolire quanto prima la riforma della prescrizione appena fatta voglio vedere se PD e Italia Viva avranno il coraggio di essere coerenti con se stessi cercando di rimediare al danno che hanno causato anche loro prima del 31 dicembre e ovviamente poi aspiro che quanto prima si ponga fine anche a questo Governo e quindi oltre a fermare la durata senza fine dei processi che lasciano potenzialmente dei cittadini anche innocenti sotto processo a vita con un mai fine pena aspico anche che i cittadini non possano restare ancora troppo a lungo sotto la durata di questo Governo che sia sulla giustizia sia su tutto il resto sta facendo cose che sono il contrario di quello che ci chiedono gli italiani grazie a questo interviene il deputato Dori prego